I cani sono stanchi, rientriamo alla base. Ciao! Allora, com'è andata? Il ghiaccio si sta assottigliando. Domani dovremo usare le soldi. Vuoi un whisky? Che whisky? Beh, mettiamo alla prova l'intenditore. Indovina. Allora è una sfida. È il mio preferito. È Glenn Grant. Glenn Grant. Colore chiaro, gusto pulito. Malto da intenditore. Malto da intenditore. Grazie a tutti.